Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Mattino 6 inizia subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Andiamo sul centro edizione di Pescara. Il titolo di apertura muore a 55 anni. Era un candidato stroncato da un malore de Laurenti si aveva partecipato alle comunali di Pescara. Nel taglio alto richiamo dalle cronache della politica nazionale. La missiva diventa un caso. Europa è il giallo della lettera. Il premier. Quella diffusa è falsa. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Abruzzo, medicina. Ecco la prima passeggiata assistita con il robot EXO. L'esoscheletro riabilitativo robotizzato ieri ha aiutato la prima persona per la prima volta in Abruzzo a deambulare. È un cinquantenne di copertino in provincia di Lecce costretto su una sede a rotelle dallo scorso 24 di gennaio quando è stato operato per una ciste al midollo di 9 e di 10. Prima della paralisi totale degli arti inferiori il paziente faceva il meccanico la dimostrazione alla clinica San Raffaele di Sulmone. Qui vedete proprio la foto di questo esoscheletro che può aiutare nelle terapie riabilitative. Andiamo a vedere le altre notizie nelle cronache. L'inchiesta sul depistaggio Rigopiano Bis verso sette richieste di processo la Procura ha chiuso dopo gli ultimi due interrogatori l'inchiesta Bis sulla tragedia di Rigopiano e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio dei sette indagati per depistaggio e frode processuali a partire dall'ex prefetto Francesco Provolo. Licenziata dall'università in congedo per la madre malata era però in vacanza. congedo straordinario dell'università l'annunzio per assistere la madre malata ma invece di stare a casa era andata in Cina in vacanza l'Ateneo l'ha scoperta e l'ha licenziata. Poi elette sette donne a Montesilvano ecco le ledi del nuovo consiglio comunale. Andiamo a vedere poi a centropagina nella fotografia le regole in spiaggia dai racchettoni ai lettini in acqua ecco i divieti al mare. Poi via Marconi perde metà dei parcheggi la corsia preferenziale dei bus verso sud cancellerà i posti auto lato Monti. Nel taglio basso troviamo lo sport con il calcio di Serie B il Pescara ora punta sui giovani. Zauri in panchina e Bocchetti nuovo direttore sportivo è pronto a ripartire da due debuttanti a entrambi ex difensori biancazzurri il Pescara. Luciano Zauri 41 anni dopo la positiva stagione alla guida della primavera eredita la panchina di Baby Pillon. Antonio Bocchetti 38 anni dopo tre anni in C tra Paganese e Fano società satellite del Pescara farà l'esordio in B come direttore sportivo. Ancora la Serie A Conte all'Inter è ufficiale ma la tifoseria si spacca e poi concerti d'estate Bondadash e Achille Lauro in una sola sera a Vasto. Questa è la prima pagina del centro edizione di Pescara adesso andiamo a vedere le altre edizioni provinciali partendo da quella di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura è il killer arrestato dopo vent'anni. Omicidio con la cioppo tradito dai social l'uomo delle 17 coltellate. Andiamo poi a vedere le altre notizie nello spazio delle cronache. Chieti Università in congedo ma va in vacanza e viene licenziata, abbiamo già visto in precedenza. A Vasto aggredisce i dipendenti in municipio, un giovane aggredito verbalmente ieri mattina in municipio. A Vasto alcuni dipendenti comunali e la segretaria alla base del RAI della richiesta di un alloggio al primo piano. San Salvo Pilkington torna alla paura per 55 esuberi. Andiamo a vedere ancora la cronaca. Cumuli di rifiuti in fiamme nella ditta, Chieti e Rogo nella fabbrica di Bellia, bruciati quintali di ferro, motori e pneumatici. Poi a centropagina la fotografia. Vasto i due ragazzi innamorati grazie alla piscina. La storia di Luigi e Mariella, down fidanzati. E ora Bagnini mostrano il loro brevetto. Nel Taglio Basso domani la ricorrenza del 2 giugno, festa con quattro medaglie d'onore, Chieti cerimonia la villa, la bandiera scortata dagli studenti. Questa sarà la manifestazione in programma nel capoluogo. Poi ci spostiamo sull'edizione teramana del centro. In apertura la cronaca rapina da 150 mila euro alle poste. Tortoreto armati di Kalashnikov bloccano i portavalori con le pensioni. Andiamo a vedere le altre notizie. Nello spazio delle cronache, il nodo ricostruzione sisma, i sindaci sono pronti a manifestare il testo del sblocca cantieri all'esame del Senato. Per i sindaci è insufficiente a far partire la ricostruzione. Per questo i primi cittadini dei comuni del cratere sono pronti a manifestare per far approvare i loro emendamenti. Per il decreto Salvini accoglienza a rischio i posti di 26 operatori. salvi per ora i 26 posti messi a rischio dai tagli del decreto sicurezza. Gli operatori del Cassa Canzano, Campi e Basciano più gli sprarre di Teramo e Roseto non saranno licenziati ma verrà loro ridotto l'orario. Giulianova al voto. Tribuiani no ai confronti con Costantini. Ieri un comunicato proprio su questo argomento che è tema di campagna elettorale per il ballottaggio a Giulianova. La TEAM, favorito all'Aquilano Zaccagnini, gestione dei rifiuti a Teramo d'Alberto, potrebbe scegliere il 39enne ingegnere per la guida della società che si occupa della nettezza urbana. E poi andiamo a vedere la fotografia. Gran concerto di fine anno delle orchestre delle scuole a Teramo. Grande finale in città. Ieri pomeriggio, in due affollate occasioni, si sono esibite l'orchestra del liceo musicale delfico e quella composta dagli studenti di tre scuole medie del capoluogo che vedete nella fotografia. Andiamo poi nel taglio basso con il calcio di Serie C. Teramo, la cessione è un caos, Campitelli se non compra Iachini ridò la società al sindaco dopo il comunicato di Iachini nel quale l'imprenditore ha chiesto la gestione dello stadio Bonolis come aspetto essenziale per completare l'acquisto del club. La reazione negativa di Sabatino Cantagalli, il gestore dello stadio, che ha spinto Luciano Campitelli a minacciare e di consegnare la squadra nelle mani del sindaco. Andiamo a vedere poi l'ultima delle quattro edizioni provinciali del centro, quella aquilana. In apertura a tasse la Lega annuncia la proroga. L'Aquila, Deramo e Arrigoni, rinvio a dicembre, atteso il voto dell'Aula. Poi nelle cronache consiglio in tre via dalla Meloni per Forza Italia, acque agitate nel centro-destra, tre consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Bernardino Morelli, Marcello Dandì e il capogruppo Giorgio De Matteis hanno detto addio al partito di Giorgia Meloni per aderire a Forza Italia. Sempre all'Aquila, processo alle femministe, tensione in aula e una persona espulsa dal giudice nel processo a carico di tre donne romane accusate di diffamazione e danni del noto avvocato Antonio Valentini. Ci spostiamo a Castelli Sangro, nuovo centro federale, oggi l'inaugurazione per quanto riguarda il tennis. Ancora presi dopo la rapina in tabaccheria ad Avezzano, la coppia in fuga inseguita da un agente di polizia libero dal servizio. Poi nella fotografia l'Aquila cerimonia in comune, casa dello studente, ritrovato lo striscione rubato. Nel taglio basso, calcio, l'Aquila, sci per disabili, progetto ultra, un'altra iniziativa benefica del gruppo Red Blue Eagles. Andiamo a vedere adesso la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero, eccola qui. Terremoto rivolta per le tasse, il titolo scelto per l'apertura del giornale, l'Europa dovranno essere restituite, Cioni si sospende nel vuoto per proteste, il direttore di Confcommercio urla al megafono, presto fallimenti e licenziamenti. E qui vedete la sua singolare protesta che poi andremo a vedere insieme nella seconda parte nel servizio. Poi il progetto, anche la pesca diventa un volano per il turismo, l'articolo di spalla, dai trabocchi al Museo del Mare, tante attrazioni per sfruttare al meglio la risorsa mare. Poi a centropagina nella fotonotizia Gang fugge con 180 mila euro a Tortoreto rapina all'arrivo del blindato, con all'interno i soldi delle pensioni. Ancora centropagina, cannabis, tanti negozi chiudono ma c'è anche chi vuole resistere. Vendiamo solo i prodotti in regola, non abbiamo alcun timore. Il rogo nel piazzale della Iron Metal a Chieti si indaga sulle cause del rogo. La catastrofe, Angeri, nessun depistaggio su Rigopiano. Ha detto di essere convinto di aver agito in perfetta buona fede, ritenendo di aver interpretato in maniera chiara quelle che erano state le disposizioni impartite dalla Questura. Salvatore Angeri, vice prefetto distaccato a Pescara nei giorni della tragedia di Rigopiano. Taglio basso, il delitto, il telefono che accusa. Non mi hanno chiuso stupidi del cavolo, diceva al telefono parlando col suo connazionale e del fatto che non lo avessero arrestato per la morte della sua compagna. Ma quelle altre telefonate sono i pilastri dell'accusa a carico di Gelu Kerciu, il romeno di 67 anni, a giudizio per aver provocato la morte della convivente moruxorio Monica Gondos. Secondo l'accusa, l'uomo dal 2014 fino al decesso della donna l'avrebbe picchiata e aggredita. Andiamo adesso nel taglio alto per i richiami dalle pagine interne. Malattie rare, Noemi compie 7 anni tutti alla festa della speranza. La tragedia, caso Morosini, la Cassazione demolisce la sentenza per il calcio di Serie B. Pescara che riparte da Delgrosso, Zauri Sarai, il nuovo allenatore. L'esperienza del difensore sarà fondamentale. A 38 anni mi sento in forma, ha dichiarato. Per la panchina prende sempre più corpo la promozione del trainer della primavera. Ci spostiamo ora sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. In apertura il caos sull'affare Teramo Calcio. Teramo Calcio, l'affare si complica. Cantagalli, Campitelli e Iachini discutono su stadio eccessione. Il sindaco s'appella al buonsenso. Poi a centropagina si torna sulla rapina Tortoreto. Rapinatori col Kalashnikov portano via 180 mila euro, colpo grosso al portavalori postale. Andiamo a vedere il taglio alto con il decreto sblocca cantieri e le polemiche. Regione, sindaci e cittadini protestano per la ricostruzione, così come non sblocca un bel niente. Poi ancora di spalla l'istruttore scomparso. L'autopsia dice che è di sciarra il corpo trovato in mare qualche giorno fa. Poi Marsilio che dichiara la regione non ha potere sulla fusione delle camere di commercio. Questo argomento che riguarda la fusione della camera di commercio di Teramo con quella dell'Aquila. Poi ancora Giuliano Valballottaggio. Tribuiani contrario all'ospedale unico e ancora polemica sui confronti tv tra gli sfidanti. Nel taglio basso Fano Adriano iniziata la demolizione del caseggiato pericolante sulla strada dei Prati. Dunque abbiamo visto anche l'ultima prima pagina per quanto riguarda i quotidiani regionali. Adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali partendo dal Corriere della Sera. In apertura il caso Tria scuote il governo. Giallo sulla lettera all'Unione Europea. Di Maio protesta per Italia. Il ministro dice non è opera mia. Poi arrivano le correzioni. Visco di Banca Italia e il suo richiamo. Italia più povera senza Europa. Il deficit non deve salire. Questo appunto nella relazione del governatore di Banca d'Italia. I leader e le idee sulla vita. La politica raccontata dalla Cannabis. L'articolo di Antonio Polito. Poi l'editoriale firmato da Aldo Cazzullo. Il 2 giugno che unisce il paese la storia e i simboli per questa festa nazionale che si celebra nella giornata di domani. Poi andiamo a vedere le altre notizie. Mercati e fiducia. L'illusione di spendere soldi che non si hanno. L'articolo di Daniele Manca a corredo della notizia d'apertura e della lettera inviata dall'Italia in risposta alle questioni sollevate dall'Unione Europea sui conti pubblici. Andiamo adesso a centropagina. Altri due giudici agli incontri con i deputati. Nomine CSM, Palamara, clima di veleni. Questo per quanto riguarda l'inchiesta su possibili corruzioni all'interno del CSM e più in generale nella magistratura. Soprattutto in relazione alla scelta del nuovo procuratore di Roma. A centropagina la fotonotizia. Parmitano torna nello spazio. L'assumi manca solo il mare. Il personaggio, l'austronauta, si prepara per la sua seconda missione. Luca Parmitano. Andiamo a vedere la Repubblica. Il titolo di apertura. L'allarme del governatore Italia rischia tutto. Visco fotografa la situazione critica dell'economia. Servono interventi per rilanciare il PIL. Trapela la bozza della lettera all'Unione Europea. Scontro nella maggioranza. Poi Conte Media la corregge. Intanto lo spread sale. Per la prima volta titoli di Stato a livello di quelli della Grecia. Il commento. Uno scatto di responsabilità. L'articolo di Francesco Manacord. In retroscena la tentazione 5 Stelle a staccare la spina al governo. E poi il caso. Doppie poltrone che passione. Andiamo a vedere di spalla l'analisi. Stati Uniti, Messico. I dazzi buoni e quelli cattivi. Scrive Federico Rampini, corrispondente di Repubblica dagli Stati Uniti. 5% di dazio imposto da Trump sui prodotti del Messico come, passatemi il termine, ritorsione o come punizione per non fermare il traffico di droga e quello di migranti. Poi andiamo a centropagina. L'inchiesta alla parabola di Assisi dal PC alla Lega. Viaggio nelle piccole città dove Salvini ha vinto. Ha catturato il bisogno di sicurezza. Scrive Sergio Rizzo. Nel taglio basso. Il mercato delle nomine. CSM e altre toghe riunite con Lotti. Vertice al Quirinale sullo scandalo. Andiamo a vedere la stampa. Il titolo di apertura. Di Maio corregge Tria. Niente taglia al welfare nella lettera. Bruxelles. L'allarme di Visco. Più poveri senza Europa. La riforma fiscale sia sostenibile. Polemica sulla lettera all'Unione Europea. Il leader 5 Stelle. Blocca la bozza e accusa Salvini. I consigli di Banca d'Italia. La ricetta per evitare l'autogol. E poi la protesta del 2 giugno. I generali sfidano la 30. Domani non sfileremo. Dicono. Sfidano chiaramente il ministro della difesa. Di spalla. Bufera sui magistrati. Intervista al PM. Palamara. Io vittima dello scontro fra correnti. Queste le parole per il principale indagato. Su cui ruota tutta questa indagine. Ex presidente dell'Associazione Nazionale. Magistrati. E poi se il fango arriva al CSM. È in gioco la credibilità delle toghe. È l'articolo di Zagrebeschi. Andiamo a centropagina. Nella fotografia. La rivolta del tonno. Favignana contro le quote del governo. Sul fatto quotidiano. Tria e il mistero delle due lettere. Prima versione della risposta a Bruxelles. Meno deficit con i risparmi del reddito di cittadinanza di quota 100. I 5 stelle. Basta austerità sulla spesa sociale. Poi il premier. Vado dai giudici. Soffiata rischiosa per i mercati. Il testo è un altro. E lo modifica in extremis col Tesoro e Salvini. Tace. Poi. Sapelli presidente. La Lega vuole la popolare di Bari. Che dirà visco e viaggio nei meetup. Noi ecologisti di Salerno fatti fuori dal potere. Questo è un po' il riassunto che fa il fatto quotidiano sul giallo a Palazzo Chigi. Come viene titolato. Fuga di notizie sulla replica all'Unione Europea di Maio Laboccia. Conte Sinfuria. Il ministro la riscrive. Nel taglio alto. Un anno in giallo verde. Degli errori e le cose buone. Riforme nomine e decisioni di Salvimaio. Leggi e pagelle. Poi. Toghe e veleni. Lotti e Palamara. Trame per il dopo Pignatone. Le carte dell'inchiesta Umbra. Sulla scelta del nuovo procuratore di Roma. Sul sole 24 ore. Il titolo di apertura è chiaramente dedicato all'allarme. Lanciato dal governatore di Banca d'Italia Visco. L'Italia più povera senza l'Europa. Allarme Istat sul PIL. Considerazioni finali. Il governatore 100 punti di differenziale costano al paese lo 0,7 in tre anni. Aumenti di spese, taglia e le entrate siano sostenibili. Banche ancora vulnerabili. Nel primo trimestre crescita congiunturale dello 0,1%. Quella acquisita è pari a 0. Alcuni dei passaggi del governatore di Banca d'Italia Visco. Poi c'è l'editoriale del direttore del Sole, Fabio Tamburini. Più nascite e immigrati contro il declino. Anche questo è stato un argomento toccato dal discorso di Visco. Poi ancora andiamo a vedere l'annuncio di Trump sul Messico. Dazzi e migranti, mercati a picco per quanto riguarda questa guerra commerciale che prosegue portata avanti proprio dal Presidente degli Stati Uniti. Poi ancora le delocalizzazioni. Whirlpool vende il sito di Napoli. 430 posti a rischio che Nord lascia Verona. Questo per quanto riguarda le grandi aziende nel nostro paese. Andiamo a vedere poi lo spread che risale. I BTP a 5 anni più rischiosi dei titoli greci. E poi lettere in risposta all'Unione Europea inviata dopo lo scontro Tria di Maio dai fondi per il welfare e risparmi senza riferimenti al reddito di cittadinanza. Sul manifesto il titolo di apertura è sulla fotografia come di consueto. Luna di Fiele. Oggi il governo compie un anno ed è guerra di tutti contro tutti su debito, flat tax e reddito di cittadinanza. In discrezioni sulla lettera di risposta di Tria all'Unione Europea scatenano la bagarre. Di Maio attacca ma il Ministro smentisce. Banca Italia avverte una manovra in deficit sarà rimangiata dallo spread. Poi ancora Whirlpool chiude Napoli e scappa. La multinazionale USA strappa l'accordo del 2018 e delocalizza licenziati di colpo 430 lavoratori. Andiamo su avvenire. Il quotidiano cattolico apre così lettera anonima. Trapelato un testo che annunceva risparmi su welfare, reddito di cittadinanza e quota 100. Tria smentisce le anticipazioni della risposta all'Unione Europea. Di Maio chiede un vertice. Salvini rilancia la flat tax in deficit. Fisco dice un rischio. Siamo più poveri senza l'Europa. Andiamo a vedere poi le altre notizie. Nave saudita a Caglia ricarica di armi di nascosto. Imbarcate le bombe della RWM che saranno usate nella guerra in Yemen. E poi in Romania l'incontro con il patriarca ortodosso Daniel, il Papa contro l'odio. Camminiamo insieme. Sul messaggero, titolo di apertura. Caso Unione Europea salta la tregua nel governo. La risposta di Tria al richiamo di Bruxelles. Coi tagli al reddito fa insorgere Di Maio e Conte. Poi la retromarcia del MEF. Lira del Premier. Lunedì dirò se continuo lo scontro all'arma Mattarella. L'avviso del governatore sull'IVA. Visco no al taglio delle tasse in deficit. Spread nuovo balzo. Siamo peggio della Grecia. L'editoriale, la via stretta, noi e l'Europa, patriottici ma senza autoassolverci, scrive Luca Ricolfi. Poi ancora rischi del baratto col carroccio. I grillini ora vacillano sul Salva Roma ma la capitale non è merce di scambio. Questa è l'attenzione particolare del quotidiano romano a quanto accade nella capitale. 2 giugno la parata delle defezioni e Meloni dice io sono stata esclusa. Tre generali assenti per protesta contro 30. Parla il ministro. Non è solo la festa. Dei militari. Vorrei dei rossi il mia colpa di pallotta. Lettera ai tifosi dagli Stati Uniti ma il presidente non convince dopo la burrasca sulla bandiera giallorossa. Il tempo. Ancora quotidiani romani. Cara Unione Europea non prenderci alla lettera. Il povero ministro dell'economia risponde alle critiche della commissione insieme a Salvini. Salta fuori la bozza. Il Movimento 5 Stelle agita lo spettro della crisi contro obbligatria a una seconda missiva. E Banca Italia avverte l'esecutivo. Guai a finanziare in deficit le nuove misure. Andiamo avanti sulla verità. Ecco la RAI del cambiamento. Lerner ci costa il doppio di Vespa. Al comunista col Rolex che insulta a chi non vota come lui. 60 mila euro appuntata per un programma finalizzato a attaccare la Lega e difendere gli immigrati. Uno schiaffo in faccia a chi paga il canone. Questa è la posizione del giornale di Belpietro. Andiamo sul secolo d'Italia. Il 2 giugno non si tocca. Basta con le gaffe del ministro Trenta. La parata militare va rispettata da tutti senza politichese. Poi nel primo piano Silvio che è caduta di stile. La Medoni lo sotterra. Nuovo disastro per Di Maio. Whirlpool nel licenza 430. Tria rassicura l'Europa. Ma la lettera è un caso come abbiamo visto. Sul mattino di Napoli il titolo di apertura. Lo spread peggio della Grecia. Il governo si spacca sui conti. Andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dal Corriere dello Sport. Libero per la Juve. Ancora sulla trattativa fra la Juve e Sarri. Il Chelsea lascia andare Sarri. avrà un denizzo tra virgolette mascherato. Il tecnico potrà firmare un triennale da 6 milioni a stagione. E poi Roma e rompe il presidente. La versione di Jim. Chiarimenti scuse, accuse e promesse. Nella lettera aperta da Boston ai tifosi. Dal caso dei Rossi all'attacco a Monci. Poi la promessa. Sarò più presente. Daniele conferma. Vado in tribunale sulle indiscrezioni uscite sulla stampa in retroscena che riguardano lo spogliatoio. Poi Champions Queen è il titolo che riguarda la finalissima del Vanda metropolitano di Marid. Tra Tottenham e Liverpool. Pochettino, Kane, decisione difficile. Klopp, ho perso sei finali. Devo vincere. Dunque staremo a vedere che cosa accadrà stasera. E poi strapazza Inter. Inter ufficializzato ieri all'alba l'arrivo di Antonio Conte. Subito a Madrid con Zang. Voglio una squadra più regolare. Questo è l'auspicio di Conte. Milan, Maldini pronto a dire sì con Giampaolo in panchina. Per quanto riguarda la panchina rossonera. Sulla gazzetta dello sport. Chettango è il titolo con le foto di Icardi e Dybala. Il super scambio. Inter e Juventus ora dialogano. Questo è il mese decisivo dopo Zecoma. Rotta punta forte su Kolarov. Conte mai più pazza Inter. Il neotecnico la voglio forte e regolare. A Madrid è nell'hotel di Mourinho. Poi San Juve c'è il via libera. Incontro positivo tra il Chelsea e il tecnico. Abramovic va su Lampard. Notte di stelle. Son Salah, il nuovo re di Champions, arriverà da lontano. Partita in diretta. Questa sera alle 21 Tottenham, Liverpool per la Champions League. Poi provaci Nibali sulle Dolomiti infocate per il Giro della Vita. Cinque salite, arrivo sul Monte Avena. Carapazza ha 1,54 di vantaggio su Nibali. Nel taglio basso il Milan, Maldini un po' più vicino. Vede Gazzini se si lavora anche sullo staff. Costa Curta potrebbe essere il club manager. Luolo di direttore tecnico. Rossoneri in attesa. Allenatore Giampaolo lascia la Samp. Ci spostiamo su tutto sport. Il titolo abbastanza eloquente, libero, con la foto di Maurizio Sarri, molto vicino alla Juve. Conte spacca l'Inter, tifosi divisi. La curva Nord dice non dimentichiamo il suo passato. Tottenham per la storia, Liverpool per la gloria, per la finale di Champions. Caprari o Cutrone. Il Toro ora sceglie Granata a caccia di una spalla per Belotti. E poi la MotoGP con il Gran Premio d'Italia, Lorenzo esclusivo. Sono come Rocchi, saprò rialzarmi. Andiamo a vedere anche il titolo del quotidiano sportivo. Siamo in chiusura di prima parte. Non sono tutti co-conte, giocando con il cognome di Conte. L'ex-CT all'Inter divide i tifosi. La curva Nord non possiamo dimenticare il passato. Moratti a qualità ma aspetto e a Torino vogliono vedere. la stella. E poi Guardiola, il sogno resta in attesa Sarri. E poi Super Ducati con Bagnai a Vale, solo diciottesimo. Questo per quanto riguarda il quotidiano sportivo. Noi ci fermiamo con la prima parte della rassegna. Andiamo a vedere le previsioni meteo. Dopo il break pubblicitario torniamo con le pagine interne dei quotidiani regionali. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Pagine interne dei quotidiani regionali. Partiamo da quella a Bruzzo del messaggero. Le prime spine, accordo Lega Fratelli d'Italia. Ora Forza Italia in allarme. L'asse sovranista insieme al PD promuove una legge sul crua. I forzisti, problema più complesso, si rischia lo strappo. In maggioranza in ballo l'intera partita del salvataggio dei centri regionali di ricerca gravati dai debiti. Poi i canapa shop titolari tranquilli prodotti in regola, nessun timore, ma intanto dopo la sentenza della Cassazione hanno già chiuso diversi esercizi commerciali. Ci spostiamo adesso sul centro, nelle pagine di primo piano, risarcimenti attesi, danni da nevicata, 62 milioni ai comuni, ma al tempo record del 2017. La regione firma 69 convenzioni con i sindaci e i presidenti di due province. Chiaramente c'è tutto l'elenco sul giornale dei vari comuni che beneficiano di questo ristoro e noi andiamo a vedere insieme il servizio. Arrivano i fondi per 69 comuni abruzzesi che avevano subito danni in occasione dell'ondata di maltempo del 2017. Si tratta della prima annualità riguardante le province di Pescara e Chieti. Successivamente, nelle successive annualità, ci saranno ristori per altri comuni abruzzesi, 202 in totale i fondi disponibili. Questa mattina nella sede del Consiglio regionale di Pescara c'è stata la firma delle convenzioni con i sindaci dei comuni interessati dal provvedimento. Purtroppo arriva dopo due anni dagli eventi. Pochi mesi fa, un mese fa, a Palazzo Chigi, nella seduta del Cipe, sono stati finalmente distribuiti questi fondi che erano disponibili nel bilancio dello Stato da almeno un anno, un anno e mezzo prima. Credo che nel meccanismo di trasferimento dei fondi dallo Stato agli enti locali si debba accelerare e debbano cambiare queste regole. Perché chi subisce un evento calamitoso come le nevicate del 2017 non può aspettare l'estate del 2019 per avere i fondi e poi iniziare gli appalti e quindi porre riparo ai danni con 3 o 4 anni dopo gli eventi. Anche perché frane e alluvioni lasciano ferite sul territorio che se non vengono subito curate peggiorano nel tempo. E quindi il conto economico che magari viene fatto a fine gennaio nell'immediatezza dei danni, due anni dopo i soldi non bastano più. Però intanto adesso è importante accelerare, fare noi da questo momento in poi, sta nelle nostre mani, accelerare. Quindi ho convocato tutti i sindaci, firmiamo le convenzioni e staremo sul territorio. E daremo supporto alle amministrazioni perché questi lavori si facciano il prima possibile e i soldi vengano impegnati nella maniera più produttiva. Marsiglio questa mattina ha anche parlato dei fondi della ricostruzione post-sisma del 2016 dopo le proteste dei sindaci dei territori colpiti dal terremoto. La preoccupazione dei primi cittadini riguarda l'esclusione dallo sblocca cantieri dell'emendamento proposto dai comuni e dall'Anci in relazione alla ricostruzione nel centro Italia. Si può e si deve fare ancora molto. Si è creata una grande aspettativa sul decreto legge che inizialmente doveva essere un decreto legge dedicato al terremoto. Poi il governo e in particolare il sottosegretario Crimi ha scelto di inserire questo decreto all'interno dello sblocca cantieri. Sembrava inizialmente lui pensava che lo sblocca cantieri avrebbe avuto una corsia preferenziale invece abbiamo dovuto verificare che ha una serie di problemi politici di tenuta della maggioranza che hanno rallentato prima l'adozione del decreto in Consiglio dei Ministri e quindi siamo stati due mesi ad attendere. Adesso fanno fatica ad approvarlo in aula tra una serie di tensioni e nel frattempo negli articoli dedicati al terremoto c'è molta poca sostanza rispetto agli impegni e alle aspettative che erano state create, cioè di accogliere larga parte se non tutte le richieste che i territori avevano faticosamente messo insieme e condiviso tutti insieme a livello istituzionale e al di là delle parti politiche. Io spero che questi giorni che mancano alla ripresa dei lavori martedì in Senato possano servire al governo per trovare l'energia, la forza e la consapevolezza dell'urgenza di inserire queste norme, di non perdere questo ultimo treno perché rischiamo davvero di arrivare fuori tempo massimo. Andiamo avanti ancora nelle pagine di primo piano del centro. Prima passeggiata assistita con il robot. Al San Raffaele di Sulmona inaugurata l'eccellenza riabilitativa EXO la fa camminare che ha lesioni spinali gravi. E poi nel taglio basso l'assessore veri chiarisce sul punto nascita di Sulmona l'assessore ribatte a chi parla di promesse elettorali disattese nel caso di specie. L'ex assessore Silvio Paolucci oggi in consiglio regionale. Noi su questo scontro andiamo a vedere il servizio. Botta e risposta tra l'ex assessore Silvio Paolucci e l'attuare titolare della sanità regionale Nicoletta Veri sulla chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sulmona dopo che il ministero ha chiesto a Regione Abruzzo di indicare una data certa entro la quale il reparto chiuderà i battenti. Paolucci attacca il governo giallo-verde le promesse fatte in campagna elettorale sulla volontà di sventare la chiusura del punto nascita. Dopo le promesse della campagna elettorale di Salvini, della Meloni o anche del ministro Grillo la realtà è che il governo ha intimato la chiusura del punto nascita chiedendo gli atti che documentino questa chiusura. Nulla dunque è cambiato salvo l'aver preso per i fondelli tanti cittadini e gli elettori nel sangro, nella comunità peligna e in questa regione. Noi avevamo concluso la legislatura aprendo un pertugio, una porta chiedendo una deroga che ovviamente dal punto di vista degli argomenti anche all'interno della rete ospedaliera può essere ulteriormente rafforzata di contenuti dal governo regionale. Sostenere che l'attuale governo regionale non stia facendo nulla a tutela del punto nascita di Sulmona è semplicemente e colpevolmente falso, ribatte l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. Sono anni che il tavolo di monitoraggio ministeriale, spiega l'assessore, chiede la chiusura della struttura perché non rispetta gli standard di sicurezza. Ma chi mi ha preceduto non ha fatto assolutamente nulla per individuare una soluzione alla vicenda, si è semplicemente ignorata la richiesta. L'assessore infine chiarisce i motivi per i quali il punto nascita di Sulmona non figura tra i temi all'ordine del giorno nella prossima riunione del tavolo di monitoraggio. Non c'è nessun retroscena, rimarca la Veri. Non è tra i punti in discussione semplicemente perché il tavolo tecnico sul riordino della rete ospedaliere attivato in regione sta predisponendo in collaborazione con l'Asla Aquilana il cronoprogramma per la messa in sicurezza del punto nascita del presidio Peligno, così da portare a Roma una proposta concreta che potrà essere sottoposta a un esame oggettivo da parte dei funzionari ministeriali. Sul centro pagina Abruzzo, l'Aquila e Chieti, nuovo bando per i DG, manager ASL, è partito il primo ricorso, l'ex direttore generale di Roma 2 escluso si rivolge al Presidente della Repubblica, vuole l'annullamento della selezione. Nel taglio basso, nel partito democratico, Luciani si candida segretario, direzione con sorpresa, il sindaco di Francavilla rompe gli schemi. Andiamo nella pagina Abruzzo della città per cambiare argomento. Sisme e tasse, protesta appeso al balcone, gesto clamoroso del direttore della Confcommercio Celso Cioni, 124 imprese sono appese ad un filo, la proroga, ieri sera l'annuncio della proroga del pagamento al 31 dicembre, ma la vicenda non è risolta. Arriva la solidarietà anche del Presidente Marsilio che abbiamo ascoltato in precedenza e possiamo andare a vedere il servizio che riguarda proprio questa singolare protesta di ieri. È arrivato il via libera da parte del Governo per la proroga del pagamento delle tasse del Sisma 2009. Ad annunciarlo sono stati il senatore Paolo Arrigoni e l'onorevole Luigi Deramo della Lega. Una notizia che arriva dopo la clamorosa protesta di questa mattina da parte del direttore di Confcommercio che con una corda si è calato dal balcone di casa proprio a causa della mancata proroga della restituzione delle tasse ridotte e sospese dopo il Sisma 2009 che l'Unione Europea considera aiuti di Stato. Una partita da 100 milioni che avrebbe effetti devastanti sull'economia cittadina, aveva detto Celso Cioni. È una vergogna, sembrerebbe che sia burocrazia europea, è follia pura, gli imprenditori, gli operai che sono tanti non si meritano questa tragedia, questa via Crucis che non finisce mai e io sono costretto come loro a stare con una corda nel vuoto. Noi non ce lo meritiamo, nessun Aquilano merita questo, basta, vergognatevi, vergognatevi, ci avete fatto le campagne elettorali su questi temi rassicurandoci, non ce lo meritiamo, vergognatevi. Cioni non è nuovo a proteste del genere. Cioni aveva lanciato anche invettive non troppo velate contro i rappresentanti politici locali. Inizialmente erano circa 350 le imprese e le partite coinvolte, ora dopo l'attuazione del de minimis di 200 mila euro, cioè l'esclusione degli imprenditori che dovevano pagare fino a 200 mila euro, la platea delle imprese coinvolte in questa questione delle tasse si è ridotta a 124 imprese per pagamenti complessivi pari a 78 milioni di euro che con interesse e sanzioni diventano circa 100. È chiaro che questa è un'altra proroga sul discorso e soprattutto sull'interlocuzione con l'Europa si dovrà lavorare ancora. Restiamo sulla città per parlare del decreto sblocca cantieri. Il governo Cosino sta sbloccando la ricostruzione. I sindaci del cratere delusi ed esasperati pensano alla protesta e sperano in un sub emendamento correttivo. L'unica certezza all'USR di Teramo arriveranno altri 15 tecnici assunti con i risparmi regionali e con altri 4 per i comuni. E poi deroghe insuperabili per risolvere il rebus gran sasso sull'acquifero e sulla sua messa in sicurezza. Il governatore Marsilio tiene a freno gli ambientalisti e motiva le critiche al governo. Sfollati oggi in piazza per protesta sui ritardi, rientrano nelle case tempi certi e casse. Ora non c'è più tempo da perdere, dice Davide Rosci dell'USB che si è fatta promotrice di questa manifestazione. Ma torniamo sul quotidiano Il Centro. Nella seconda pagina Abruzzo, maieletta piano da 20 milioni bloccato, i fondi del Masterplan al centro di un caso. L'assessore Febbo svela niente lavori per megapiste con seggiovie e neve artificiale annunciati dall'ex giunta d'Alfonso. E poi nel taglio basso, Pettinari, così la Lega taglia i fondi al Ciapi. Il consigliere 5 Stelle scopre un emendamento del carroccio che cancella 600 mila euro per i dipendenti. Proseguiamo, andiamo nelle pagine di Pescara, ancora sul centro. Il traffico, ultimo atto della giunta Alessandrini. Via Le Marconi, la corsia dei bus cancellerà metà dei parcheggi. L'amministrazione uscente varrà un progetto per rendere più veloce il trasporto pubblico locale. Spariranno i posti auto al lato monte, le rotatorie verranno tagliate per far passare i mezzi della tua. Andiamo avanti. La telefonata al neosindaco. Berlusconi si congratula con Masci. Che successo? Verrò a Pescara. Il primo cittadino riceve la chiamata del Cavaliere che esprime la sua felicità per l'elezione. Poi incontra gli operatori del mercato coperto di Via di Bastione, residenti della Tiburtina. Quanti ritorni nel Consiglio Comunale? Tante idee per Pescara. Parlano gli eletti rientrati al Palazzo di Città dopo 5 anni. Che emozione? Ecco i nostri progetti per la città. Si tratta di Foschi, Santilli, Renzetti e Fiorilli. Le regole in spiaggia dai giochi ai tuffi dalle scogliere. Ecco tutti i divieti dell'estate. Parte oggi l'operazione Mare Sicuro condotta dalla Guardia Costiera. E poi muore a 55 anni. Dopo un malore si era candidato alle comunali Bruno De Laurentiis che era iscritto al Circolo Gramsci di Rifondazione e faceva parte del direttivo della CGL. Poi depistaggi sulla tragedia di Rigopiano pronte sette richieste di processo chiuse l'inchiesta bis dopo gli interrogatori del funzionario Verzelle dell'ex vice prefetto Angieri, l'ex prefetto Provolo e altri sei indagati accusati di aver nascosto elementi di prova utili alle indagini. La Corte d'Assise è uccisa di botte. Le figlie testimoniano in aula romeno di 67 anni sotto accusa per la morte della convivente provocata dai ripetuti maltrattamenti. La morte di Monica Gondos, l'imputato è Gelo Kerciu. Poi nel taglio basso si scioglie il giallo sciarra riconosciuto dalla catenina via libera delle PM ai funerali. Il cadavere recuperato in mare è quello dell'istruttore di palestra 42enne scomparso da Pineto. Proseguiamo. I 30 licenziamenti adesso diventano ufficiali. Il curatore fallimentare della Progetto Sport Mariani ha avviato la procedura. La prossima settimana incontro tra regioni e nuovi gestori per salvare i lavoratori. proseguiamo con la pagina di Montesilvano. Il comune in rosa, la città scommette sulle donne. Sono sette nel nuovo consiglio e cinque in maggioranza e due all'opposizione tra loro professioniste sportive, docenti e casalinghe. A Città Sant'Angelo il Toto Giunta, poltrona di vice sindaco, la favorita è Travaglini. La cofondratice del gruppo del sindaco Siamo Città Sant'Angelo è risultata prima degli eletti per gli assessori in Polposition, Rapagnetta, Caralla di Gregorio e Valloreo. Poi ancora Sorrisi in Città con l'Istituto Troiano Delfico, festival a Montesilvano da domani al 29 di giugno. A Spoltore un centro per aiutare le famiglie, equip specializzate per mediazione e consulenza anche legale. Servizio rivolto ad altri 11 comuni. Pagina successiva a Francavilla, promosso il mare, la città ora punta la bandiera blu. Hanno decisivo per ottenere il riconoscimento nel 2020. L'assessore non devono scattare i divieti di balneazione. Poi Val Pescara, Valle Peligna, il progetto fusione dei comuni in ritardo da popoli appello ai prefetti. Gianni Natale di Ripensiamo il territorio. Mancano ancora i regolamenti. Bisogna sollecitare i sindaci delle quattro province abruzzesi a fare presto. Andiamo a vedere le pagine di Pescara sul messaggero. Eccole qui, Chiavaroli e Pignoli, due spine per Masci. La Lega spinge da Roma per un incarico esterno in caso di C. Pesa l'incognita giudiziaria che potrebbe favorire Peppino Bruno. Si complica il lavoro del sindaco per formare la giunta per le quote rosa sicure del Trecco Carota e Montopolino. Il primo cittadino si è consolato con la telefonata di Silvio Berlusconi che gli ha assicurato che sarà a Pescara per festeggiare. Nella pagina successiva il giallo Rigopiano telefonata sparita la versione di Argeri. Il vice prefetto di Staccato a Pescara interrogato ieri da IPM sul nodo centrale dell'inchiesta sui depistaggi per Rigopiano. Ho agito in perfetta buona fede interpretando le disposizioni ma dalle telefonate trapela. La grande agitazione del funzionario. E poi il processo Morosini con danne illogiche, processo da rifare, il defibrillatore, nessuna indicazione scientifica sulla valenza salvifica. La concitazione una decisione non considerata per l'esigibilità di una condotta diversa. Poi andiamo ancora avanti nella pagina successiva. Morta per le botte il telefono accusa alla sbarra in corte d'assisi a Chieti il romeno Gelo Kerciu accusato del decesso della convivente provocato dalle violenze. Che stupidi non mi hanno rinchiuso così l'imputato si vantava con un condanzionale dopo il primo interrogatorio. Andiamo a vedere poi le altre notizie. A Montesilvano Forza Italia prenota due assessori. In corsa Walter Cozzi e Lino Ruggero. Poi giardini d'arte da Maresca e giovani talenti under 35 nella sede della SPA del turismo in via Caravaggio. Poi andiamo avanti. Ci spostiamo nelle pagine di Chieti sempre sul messaggero. Rifiuti a fuoco alla Iron Metal scatta l'inchiesta a tutto campo le foto escludono il gesto di un piromane ma si ipotizza anche il dolo indaga la mobile per i lievi tecnici dell'arta scongiurata la presenza di Dio Sina. I vigili del fuoco al lavoro per ore. Noemi e energia totale allo stato pure. Il compleanno della piccola Noemi Sciarretta afflitta da SMA 1 che compie sette anni. Il padre dice attiva e participa alle lezioni con la tecnologia. Poi nel taglio basso il caso Ciapi. Scippo da 600 mila euro accuse dei 5 stelle alla Lega. L'economia, fondazioni, festa fra cultura e solidarietà. Concerto inaugurale messa su Gella. Oggi l'avvenuta fusione fra il Banco di Napoli e la fondazione Carichieti. Poi nella pagina di Lancianova Stortona brucia le auto condannato a tre anni. Il lancianese Ivan Spinelli di 31 anni ritenuto irresponsabile di aver dato alle fiamme tre veicoli e un palo della luce. Tutto potrebbe essere nato a causa di liti con i vicini. Ha sempre negato responsabilità e reagito con violenza. Andiamo nelle pagine di Chieti del quotidiano Il Centro. La sentenza, il viaggio sotto accusa, in vacanza mentre in concedo viene licenziata una dipendente della d'annunzio. Prof assenteista, nuova denuncia degli allievi a fisioterapia. Uno studente inoltre un esposto al rettore. Nel taglio basso Luigi e Mariella danno fidanzati e bagnini. Notizia che arriva da vasto. Andiamo avanti col rogo a Chieti Scalo. Rogo di rifiuti nella ditta. Indaga la polizia. Bruciati quintali di ferro, motori elettrici e pneumatici in un'azienda di Bellia. Le fiamme divampate nel piazzale. Chiaramente proseguono le indagini. Prof morto per un malore in mare alla conferma dei risultati dell'autopsia. Oggi alle 15 e 30 i funerali in cattedrale di Filippo Canci. Andiamo adesso avanti. Omicidio con la Cioppo. Svolta dopo 20 anni. Preso il killer latitante tradito dai social. Moldavo 48 anni in carcere per aver ucciso l'avvocato di Lanciano ad Ascoli nel 99 con 17 coltellate. Deve scontare 25 anni. Nel taglio basso brucia l'auto ai vicini. Inflitti tre anni e mezzo. Trentenne viole domiciliari e minacce carabinieri. Si è ostionato anche una mano. Andiamo nelle pagine di Teramo adesso. Post sisma la ricostruzione lumaca. I sindaci del cratere pronti a manifestare. Oggi assemblea pubblica con gli sfollati e la protesta in piazza. Nel taglio basso tagli ai centri di accoglienza. Salvi per ora 26 posti di lavoro. Accordo per evitare i licenziamenti nei cast di Canzano, Campi e Basciano e negli Sprar di Teramo e Roseto. Paura a Tortoreto. Colpo da 150 mila euro. Assalto al portavalori con il Kalashnikov. In tre inseguono le guardie che portano i soldi delle pensioni e fanno irruzioni alle poste. Vigilante ferito con un pugno. Il sindacato UGL. Aziende attenti al profitto e sempre meno alla sicurezza. Questa l'accusa. Poi nel taglio basso la Teramo Ambiente. Favorito Zaccagnini. L'ingegnere Aquilano è il candidato più quotato per la successione d'Alberto. Dice non ho ancora deciso. Nella pagina successiva. Atri. Le isole ecologiche in funzione entro luglio. Il comune valuta anche l'impiego della videosorveglianza. Andiamo a vedere le pagine di Teramo sul messaggero. Sisma. I sindaci del cratere contro lo sblocca cantiere. Abbiamo visto anche in precedenza. E poi di spalla impianti di prato editivo. Subito la manutenzione per consentire la riapertura nella prossima stagione invernale. E poi tari non pagate. Il comune deve recuperare 12 milioni di tasse. Ci spostiamo nella pagina successiva. Colpo grosso all'arrivo del blindato. A Tortoreto i banditi aspettano la consegna dei soldi all'ufficio postale. Poi si danno la fuga con un plico contenente 180 mila euro. I testimoni sono stati minacciati con pistole e mitragliette. Un rapinatore ha perso un proiettile scarrellando il revolver. Poi Giulianova. Sindaco Costantini sfida Tribuiani in tv. Il candidato del centrodestra replica quello del polo civico. Gli ultimi giorni sto tra la gente. E poi nel taglio basso il commissario. L'ordinanza anti decibel deve essere sospesa per allarme sociale. A Giulianova un'altra decisione è stata rimandata alla nuova giunta. Manacare il Tar accoglie la posizione del comune di Tortoreto. Andiamo sulla città per le altre notizie dal Teramano. Allora andiamo a vedere insieme le pagine. Camere di commercio. La regione non ha potere sulla fusione. Il governatore Marsilio non mi risulta alcun atto formale della camera di commercio per bloccare l'iter di fusione fra l'Aquila e Teramo. Andiamo avanti. Tariffe e tasse progressive come per gli asili. In commissione proseguono i lavori preliminari per il bilancio a Teramo. Proseguiamo. Lade arrestati dopo un lungo inseguimento. Teramano e complice peruviano tentano un colpo a Guidonia nella fuga speronate due auto dei carabinieri. La festa della Repubblica italiana è donna. La commissione pari opportunità ricorda le conquiste nella lunga battaglia di genere iniziate il 2 giugno del 46. Poi in provincia qualcosa si muove per i pratiditivo manutenzione e bando di gestione e o belx i progetti per la stazione turistica discussieri tra provincia GST e operatori. Il bando sfumata la possibilità di un bando pluriennale per gli impianti di risalita o si prolunga di un altro anno la gestione affidata a Marco Finori SRL o si bandisce un'altra gara annuale. Andiamo avanti alla rapina col Kalashnikov abbiamo visto già a Tortoreto. Poi nella pagina dedicata a Giulianova, Tribuiani contrario all'ospedale Unico, il ballottaggio si accende sui confronti televisivi. Questa è la polemica di queste ore. Andiamo a vedere insieme le pagine dell'Aquila, le spine del post-sisma. Siamo sul centro, la lega tasse proroga fino a dicembre. I parlamentari d'Era Marrigoni danno l'annuncio. Abbiamo visto in precedenza la protesta di Cioni. Eccola qui che si è calato dal balcone. Nel taglio basso, Camera di Commercio, vertice sulla fusione, convocato l'11 giugno il Consiglio Camerale per la fusione con Teramo. Comune, nuovi equilibri, nuovi ripasti in giunta. Consiglio in tre passano a Forza Italia. De Mattei, Simone, Morelli e Dandì lasciano la Meloni, approdano tra gli azzurri. Pagano dice non cerchiamo poltrone. Questo accade nel Consiglio Comunale dell'Aquila. Poi processo a tre femministe, tensione in tribunale. L'Aquila, il PM, diffamato un avvocato, Antonio Valentini. Si inaugura oggi il nuovo centro fit, Castel di Sangro, fino all'8 giugno il campionato mondiale studentesco di tennis. Pagina successiva con la criminalità all'Avezzano, colpo in via Roma, presi dopo la rapina alla tabaccheria. Un agente di polizia libero dal servizio ha inseguito l'uomo, un tunisino e la donna marsicana fuggiti di corsa dal locale. Andiamo nelle pagine dell'Aquila sul messaggero, casa delle tecnologie emergenti. La città presenta la candidatura. L'annuncio del sindaco Biondi durante il convegno sulle possibilità di inclusione fornite dalla collettività. Le aziende hanno illustrato le potenzialità del 5G, telemedicina, monitoraggio degli edifici, agricoltura 2.0. E poi per la casa degli studenti è stato ritrovato lo striscione rubato. La riconsegna nelle mani di Antonetta Centofanti con una cerimonia in comune. Andiamo avanti. Io appeso a un filo come le imprese. Abbiamo già visto la protesta di Celsocioni per la restituzione delle tasse sospese del sisma del 2009. Nella pagina successiva la regione vuol salvare il punto nascita. L'assessore regionale della sanità Veri replica alle accuse mosse da Paolucci. Anche questo abbiamo visto nel servizio in precedenza. Siamo così arrivati alle pagine dello sport. Andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport sul messaggero. Pescara riparte da Del Grosso. La conferma? Mi basterà una stretta di mano. Amo questa maglia e questa città. Peccato per l'eliminazione in casa. Ripartiamo con entusiasmo e ambizione. Così il terzino che ascolteremo tra poco per l'annuncio di Zauri. È solo questione di giorni per la scelta invece del nuovo allenatore dei Biancazzurri. E per quanto riguarda invece il Giro d'Italia. L'Abruzzo Cala e il Tris. Nippo Fantini-Farnese esulta con Cima dopo Cataldo e Ciccone. Patronciottio. Pianto come un bimbo. Ottima vetrina per tutti. Ma torniamo al Pescara e andiamo a vedere l'intervista a Del Grosso. Cristiano Del Grosso a pochi giorni da questa delusione peraltro le tue lacrime, il tuo gesto di stizza nei confronti di Silvestri sono un po' rimasti nel cuore dei pescaresi per la testimonianza insomma di grande attaccamento che hai dimostrato. Ma sì, al di là di questi episodi insomma. Il fattore importante è stato che comunque tutto l'anno abbiamo dimostrato di questo attaccamento alla maglia di voler riportare a tutti i costi i tifosi allo stadio e di ricreare entusiasmo in una piazza importante come quella di Pescara. Purtroppo è andata come è andata e si deve però subito ripartire a testa alta perché abbiamo fatto qualcosa di importante. In poche parole un riassunto, una stagione positiva per la squadra ma anche per te personalmente. Sì, perché comunque quando c'entri degli obiettivi importanti è chiaro che hai fatto qualcosa di importante, è in dubbio. Quindi va merito allo staff tecnico, va merito a questa società, va merito a noi ragazzi e ai tifosi che sono stati grandi fino all'ultimo. Quindi si deve ripartire da queste cose belle, positive, vere, senza stare dietro a quello che potevamo fare, quello che si poteva fare. Quindi rimboccarsi le mani che è un grande entusiasmo perché credo che questa piazza, l'entusiasmo che ti può dare questa piazza non te la dà nessuno in B. L'ultimo è il tuo contratto in scadenza a giugno, questo giugno resterai, insomma, dall'aria che tira, da quello che sentiamo, insomma ci sono concrete possibilità che tu possa prolungare il contratto, è così? Io ho sempre parlato col Presidente, la stima è reciproca, ringrazio della fiducia che lui comunque ha sempre espresso nei miei confronti e ho cercato di ripagarla sempre in campo, essendo un professionista impeccabile come comunque ho sempre fatto nella mia carriera. L'età è quella che è, ma mi sento di dire che fisicamente sono sono integro e posso dare ancora tanto a questa squadra. Vivo qui, la cosa più bella sarebbe continuare insieme fino a quando poi arriverà. Io i contratti col Presidente l'ho fatto con una stretta di mano l'anno scorso e quest'anno se lui vuole mi basta una stretta di mano. Andiamo avanti sul centro, restando sempre al Pescara, fare i puntati invece sul mercato, le manovre del Delfino, l'attacco è da rifondare, Bellini può finire in Albania, solo Marras è sotto contratto, il partizan Tirana vuole la rete uruguaiano. Nella lista della spesa per il reparto offensivo, due centravanti e tre esterni, piace Bonazzoli, Scamacca, pista difficile. Un Pescara per Giovanni, Zauri e Bocchetti al debutto, il tecnico della Primavera è l'erede di Pillon, il DS ex difensore biancazzurro dopo tre anni in Ciffa, l'esordio in B. Il tecnico dell'Ascoli, Vincenzo Vivarini, questo Pescara non poteva fare di più contro il Verona, dato la sensazione di non poter giocare diversamente, Cittadella favorito nella finale playoff, il miglior calcio l'ha giocato il Lecce, queste le parole dell'allenatore di Ari nel 2005, secondo di Sarri, prima un po' di diffidenza, racconta poi una grande amicizia. Restiamo ancora sul quotidiano il centro, andiamo a vedere adesso la Serie C con il passaggio del Teramo che si complica, Teramo la cessione diventa un pasticcio, Iachini vuole lo stadio per rilevare il club, Cantagalli gestore del Bonolis Famuro, Campitelli minaccia di consegnare la società alla città e dunque al sindaco. Andiamo a vedere questa notizia anche sul messaggero, Teramo nel caos per il caso gestione Bonolis, Cantagalli proposta unilaterale, finora mai discussa e decisa, l'ex patron Campitelli minaccia di restituire le chiavi al sindaco, Iachini deliberazioni già comunicate. Torneremo su questa pagina del messaggero, ma andiamo a vedere il titolo anche della città sulla querelle Teramo, pioggia di comunicati sul Teramo calcio. In mattinata Cantagalli, dopo pranzo Campitelli nel pomeriggio Iachini la trattativa si blocca. Botta risposta e controrisposta, tre versioni in rapida sequenza lasciano ancora appeso il destino del club bianco-rosso, una domanda resta ancora senza risposta. Chi intende comprare le quote del Teramo calcio? Torniamo adesso sul quotidiano il centro, per quanto riguarda i dilettanti, lo spoltore e Ronci vanno avanti insieme Cristofori verso la conferma sulla panchina della Torrese, rese note le scadenze per le iscrizioni, questo in eccellenza. Calcio a 5 al palla a Roma, gara 2 della finale Scudetto, Ercolessi grinta e corsa, così si punta il tricolore difensore dell'Acquessapone in vista della sfida di oggi alle 18 contro Pesaro, l'assenza di Caputo da sfruttare. Occhio allo stratega Colini, sarà una battaglia. E poi andiamo a vedere la pagina successiva, basket, playoff per la 2, Febbre Amatori si prevede il pienone contro Salerno. Andiamo a completare anche il messaggero, Acquessapone c'è gara 2, Perez sarà guerra, oggi pomeriggio Montesilvano e gli abruzzesi dovranno difendere il punto di vantaggio conquistato contro Pesaro. Per la Serie D va stesa in stand-by, Leonetti se ne va e poi ancora la D nel taglio basso da Alessandro Avezzano, vorrei lo stadio pieno, così il patronne per il volley. Seco molla anche Spoleto, Marx ora potrebbe restare. Questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito, mattino 6 torna lunedì alle ore 8, da parte mia l'augurio di una buona giornata. Grazie per la visione!